siamo arrivati a toleno durante il periodo del torneo di carte quindi io ho montato io ho montato praticamente tutto ciò che c'era da montare lo sta webcam un pochettino io la vorrei sistemare perché non mi piace come appare sarà perché ho specchiato l'immagine sarà quello che è però non mi piace e praticamente eravamo arrivati al torneo di toleno infatti ho montato l'episodio della perfect con le scene extra che vi avevo promesso di farvi vedere la volta scorsa quindi ho fatto diciamo un piccolo montaggio e ora ho ripreso praticamente dato leno quindi iniziamo a parlare con esatto con mugurigli che praticamente mi dà la lettera di artemisio quindi poco fa artemisio ha consegnato una lettera dicendo forse questa è l'ultima ma che diavolo vorrà dire cupo questo ovviamente è un riferimento al fatto che noi stiamo progredendo con la storia delle lettere side quest delle lettere che ancora non abbiamo completato al 100% quindi dobbiamo ancora andare avanti caro mugurigli nella città di alessandria c'è un bambino chiamato vivi che corre veloce come la luce per le strade del borgo sono sicuro che arriverà lontano ricordo il suo nome cupo cupo ecco ah sì ma ora sono troppo preoccupato per quello che ha scritto prima artemisio cupo esatto perché questo praticamente è il riferimento questo è praticamente il riferimento all'oggetto alla rarità anzi in questo caso che abbiamo preso no non mi direi che ho di nuovo il controller no c'è il controller che si è sballato di nuovo come cacchio lo dovevo risolvere sto problema come che l'avevo risolto la volta scorsa oh no c'è il controller che è impazzito di nuovo aspetta vediamo se forse era così ma non credo forse sì vediamo forse si è risolto dove praticamente ecco abbiamo preso praticamente il piede veloce se vi ricordate appunto nel borgo d'alexandria c'era la possibilità di ottenere questo attestato battendo hippo correndo e facendo tutto il resto io ovviamente ho fatto tutto già nella live scorsa ho montato diciamo tutti i filmati tutti i video tutte le cose che ho registrato a parte quindi ci sta faccio sempre quello che dice la mamma io ruffiano e tu no hippo ovviamente riferimento al fatto che noi abbiamo esattamente fatto quello che voleva la mamma di hippo ovvero correre contro hippo quindi anche noi effettivamente siamo siamo dei ruffianelli poi qui abbiamo le nostre le nostre stellazio che possiamo consegnare i semi di cupo che andremo a consegnare oggi oggi faremo tante belle robette tra l'altro abbiamo anche il caffè kiliman e il caffè mocca che dobbiamo consegnare anche a molid nella torre di avvistamento e poi abbiamo ottenuto praticamente i ciondoli abbiamo ottenuto praticamente i ciondoli delle nostre invocatrici che fanno parte ovviamente delle nostre arità allora detto ciò avendo fatto tutto quello che c'era da fare a toleno come eventi diciamo come eventi in tempo reale che io ho già messo praticamente nel nell'altro video qui ne vedremo degli altri come eventi però li vedremo più tardi iniziamo con sconfiggere il mostro presente all'interno dell'armaiolo quindi sconfiggiamo il mostro ovviamente posso entrare soltanto io in battaglia perché al momento siamo da soli quindi iniziamo con l'affrontare il nostro nemico ovviamente siamo super potenti e equipaggiati al meglio contro questo kato plepas tundara ovviamente noi abbiamo reflect anzi abbiamo sempre reflex quindi non c'è nessun problema lui che ci intimidisce eh terremoto potrebbe essere un problema perché non abbiamo levita però non dovrebbe farmi troppo male esatto 300 danni non sono niente olè e abbiamo sconfitto anche il kato plebas questo è il premio che aspetta il vincitore 15.000 gil che non sono affatto male ciao ciao rubrum non è affatto male allora detto ciò adesso invece andiamoce nell'asta perché all'asta c'è un oggetto che dobbiamo necessariamente comprare vediamo se già lo mettono in vendita il rarissimo mini seed vaso di doga specchio di une e materia oscura perfetto ci siamo quindi mini seed che non mi interessa quindi possiamo lasciarlo possiamo andare avanti possiamo lasciarlo vendere quindi acceleriamo pure il gioco così lo mandiamo avanti no non mi interessa il mini seed dobbiamo comprare la materia oscura e anche non so se la vendevano già adesso la spila di gnomo no la spila di gnomo la vendevano già c'era un altro oggetto che dovevo che dovevo comprare specchio di une che non mi interessa va bene vendete si olè e ora materia oscura perfetto quindi adesso facciamo vendere 11.300 offriamo 11.500 bastardo mi ha rialzato 14.900 va bene 15.200 che sono praticamente i soldi del mostro che abbiamo sconfitto 16.800 ecco 17.000 già stiamo esagerando tecnicamente con 19.000 dovrei riuscire a chiuderla però vedi 17.900 forse ci riesco anche con 17.900 yes 17.900 materia oscura questa era importante da raccogliere quindi già l'abbiamo ottenuta allora vediamo se vendono altro che mi interessa coda di topo no spila di gnomo ok la spila di gnomo è perle rosse però io in realtà la spila di gnomo dovrei già avercela una quindi in teoria purtroppo non giocando da un po' la spila di gnomo si ce l'abbiamo quindi ok non mi interessano ovviamente lasciando un po' di tempo Final Fantasy IX non mi ricordo tutto zoccoli sarebbe fichissimo adono gli zoccoli sono ottimi è che intanto già ce l'abbiamo gli zoccoli quindi non abbiamo bisogno di essere così gridi negli oggetti dell'asta cuore di grifone che non mi interessa va bene no la materia oscura l'abbiamo già presa quindi va bene così ok una volta fatto questo e aver fatto praticamente tutte le altre cose della zona di Toleno di questa fase ovviamente del CD3 perché siamo già entrati nel CD3 possiamo cominciare finalmente il nostro torneo anche perché cominciando il torneo sbloccheremo degli altri eventi quindi iniziamo ah non mi sono ancora iscritto allora iscriviamoci dopo due vittorie se il diritto ti parteciperà alla finale contro il campione in carica chi batterà il campione riceverà un premio fantastico è il migliore è veramente così bravo è un tipo incredibile va bene ma chi è a dir la verità cosa una bambina vestita da marina da marina retta allora voglio proprio farmi una partita lo sapevo ok mi iscrivo si faccia avanti lo sfidante aspettate compilatemi questo foglio grazie andate pure ora appena entrate comincerà la partita ok quindi iniziamo con la prima partita del torneo prima partita contro wake dei tetti allora effettivamente io ora dovrei iniziare a prendere delle carte più o meno interessanti qua forse avrei dovuto fare un po' di farming per quanto riguarda le carte ma forse con queste del dragonfly riusciamo bene o male ok dovremmo riuscire a farcela con queste ok anche perché tanto il primo sfidante è decisamente decisamente scarso anche perché mi gioca praticamente soltanto carte merda qui abbiamo fatto una bella cagata no le carte scarse madonna l'ho pareggiata a culo mi sarei dovuto far mi sarei dovuto formare un paio di carte altrove mi sa per essere più veloce queste sono tutte 0 queste sono 0 queste sono purtroppo sono delle carte un po' scarsine e grand dragon ne ho soltanto 1 queste in realtà non le vorrei giocare perché sono anche abbastanza rare queste addirittura 5 a perdere la carta qua sarebbe un problema ok cerchiamo di sfruttare minchia mi stava disintegrando ok mettiamola qua questa ok abbiamo vinto benissimo allora queste non ne abbiamo quindi prendiamoci il sand scorpion ok e la prima partita è andata quando siete pronti per la seconda entrate comincerete subito ecco e nel frattempo si sbloccano degli eventi in tempo reale ricordi questa dovrebbe essere anche la storia di come si sono incontrati forse la prima volta ehi amarant che ti prende fai il romantico guardando il canale credevo che anche a te piacesse startene tranquilla ogni tanto scusami stando con gente tanto dinamica parli di jidan ha scoperto qualcosa si è sulle tracce di cucia pare che questo palazzo la maison du roi appartenga a lui hanno visto uno che gli somiglia ma non sono sicura che sia lui quello che chiamano i roi di questo palazzo nessuno sa mai niente e tu che parli invece lo sai chissà forse il banditore dell'asta sa dirci qualcosa sulla vera identità del proprietario ma se è lui il più sospetto a proposito tu cosa cerchi in questa città sembra che la conosci bene che cosa può cercare una semplice guardia del corpo guardia del corpo? facevo un lavoro noioso finché non ho incontrato lui ho parlato anche troppo ehi aspetta ti piace ascoltare i racconti della gente? beh sì tantissimo dai racconta ok e qui abbiamo il primo step di quello che è appunto il continuo della storia quindi andiamo ad affrontare anche il secondo sperando di vincere ovviamente seconda partita Mario Popolano allora mettiamoci delle carte con tante frecce se ci riesco e poi ne mettiamo un paio di quelle OP 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 proprio super OP oh eccola qui eccola qui vi ricordate la scorsa volta allora vabbè è passato un po' di tempo però se vi ricordate io la scorsa volta vi parlai di una carta che si poteva ottenere grazie al fatto che Vivi praticamente non fosse uscito dalla dalla città di Toleno quindi c'era la possibilità comunque di poter ottenere una carta e questa carta è esattamente questa una carta rarissima tra l'altro guardate quanto è forte con 4M66 cioè veramente una bestia una carta pazzesca ed è esattamente il premio di cui vi ho parlato la scorsa volta quindi per il momento non giriamola madonna mia allora facciamo così esatto e guardate lui gioca solo questo tipo di carta ed è una carta rarissima tra l'altro quindi ok giriamola qui ovviamente con l'armatura Genji siamo decisamente più forti qua giochiamo qui perfetto abbiamo vinto e qui possiamo ottenere la nostra la nostra carta Namingway Namingway è praticamente un personaggio che si incontra in Final Fantasy 4 è una citazione al personaggio che si incontra in Final Fantasy 4 se vi ricordate ovvero quella sorta di coniglietto che praticamente ci dava la mappa del mondo e che poi in base a dove ci spostavamo cambiava praticamente il nome e questo fattore di cambiare nome verrà verrà fatto o comunque si potrà fare anche su Final Fantasy 9 proprio grazie a questa carta quindi ecco perché è così rara e si può ottenere ovviamente qui al torneo di carte se Vivi non torna a casa quindi se fate esattamente quello che vi ho detto per non far tornare Vivi a casa e poi un'altra carta Namingway si otterrà in un'altra zona che vi farò vedere quando ci arriveremo ok non posso avere più di 100 carte quindi dobbiamo buttare qualcosa toh butta questa benissimo ora che siamo praticamente di fronte alla fine per la finale avete soltanto una chance se perdete dovrete ricominciare tutto da capo se non vi sentite sicuro cercate un salvo Moguri esatto tecnicamente potremmo salvare e penso che lo farò e qui guardate abbiamo diversi eventi finché c'è vita la prima volta che lo incontrai fu qui di chi stai parlando di Jidan allora lo conoscevi già sì solo che lui non se ne ricorda quando facevo la guardia del corpo in questo palazzo ero proprio in forma fronteggiavo forti nemici che fossero guardie o ladri esatto al ladro è stato uno scherzetto che vuoi tu finalmente è arrivato qualcuno che mi farà divertire un pochino tu saresti la famosa guardia del corpo che è stata assunta recentemente alla maison du roi sono così famoso io so solo che non ho mai combattuto con nessuno che mi resistesse per più di un minuto allora mi fai divertire un po' non mi fai paura vigliacco ripeti se hai il coraggio adesso vedrai chi è il più forte ti batterò ancora prima che scocchi il minuto fatti sotto dov'è il ladro avanti fatti sotto mi farai il solletico moscerino ti stitolerò e butterò nel canale brutto insetto cosa fai eh aiutatemi prima passando di qui quello è spuntato da questa porta lo guardavo perché mi sembrava un ladro poi all'improvviso mi ha attaccato ma quella è la guardia del corpo del palazzo perciò è ancora più sospettoso guardatelo vi sembra normale veramente anch'io ho sempre pensato che fosse strano io vado a chiamare aiuto nel frattempo tenetelo a bada voi ricordati che i forti sono quelli che mostrano la loro forza usando il cervello l'astuto falco com'era quel proverbio giapponese nasconde gli artigli ecco bravo ciao non andrei da nessuna parte tu figurati ehi non scappare ecco e così si sono incontrati per la prima volta quindi hanno si hanno messo una taglia su di me cioè sei ribaltato dalla situazione ah 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 che c'è da ridere niente che vibra scusami allora è questa la tua storia non andare a raccontare in giro in giro quello che ti ho detto non capisco perché quello debba perdere tempo con gli altri invece di mostrare la sua forza è stato proprio il destino a farvi rincontrare no un vecchio proverbio dice mentre vai per il tuo cammino prima o poi incontrerai qualcuno sulla tua stessa via la saggezza è una virtù ma se solo potesse aiutare a vivere ok adesso andiamo a vedere anche gli altri eventi perché giustamente cambiando la schermata si potranno vedere anche gli altri presentimento sono tornata ah signorina ti è piaciuta la città insomma così così preferisci Madan Sari sì ma è bello incontrare tanta gente tanta nuova gente finora ho conosciuto solo Moguri hai conosciuto solo Moguri ma come non c'è altra gente con il corno nel tuo villaggio no ormai è da tanto che sono rimasta sola che tristezza dunque sei l'ultima superstita del clan degli sciamani ma perché ti interessano il corno e gli sciamani beh deformazione professionale sai sono un ricercatore ah già tu eri il precettore di Daga esattamente allora spiegami come si fa a diventare una raffinata principessa una volta anche Garnet era una bambina molto vivace quindi anche io ho delle speranze di diventare come lei un giorno certamente ioppi ho già anche ricevuto da Daga l'emblema reale l'emblema reale sì io ne avevo già uno e con quello che mi ha dato Daga adesso ne abbiamo due a testa davvero? ma parli dei leggendari gioielli ancestrali? sì sì lo sai il monile sparito dai registri di corte fu frantumato un frammento andò ad Alexandria una a Cleira una a Limblum e l'ultimo invece l'ultimo fu portato a Madainzari dagli sciamani ma chissà perché fu diviso cosa sarà successo 500 anni fa? ecco ci risiamo scusa quando comincio a pensare mi dimentico di ciò che mi succede intorno signori Reiko Mogu mi chiama scusa avevo lasciato Mogu con i muguri di Toleno ma forse sta succedendo qualcosa di strano ho un brutto presentimento torno subito eccoci qua via l'unico personaggio nel settembre caratterizzato sul finale di Frija Draghiere in cerca del suo amarevole piccioncina beh diciamo che i personaggi per o male hanno un'identità ben definita all'interno del gioco solo che non viene magari sviluppata e non viene presentata come come vorremmo ecco mettiamola così perché ci sarebbe tanto da dire ovviamente sui personaggi in generale che però purtroppo non sono mai stati valorizzati forse nella maniera corretta allora l'altro evento non mi spunta non vorrei che forse dovevo andare dall'altro lato per farlo spuntare non mi ricordo allora nel frattempo che ci siamo consegniamo gli altri stellazio anche se in realtà ne dovrei consegnare un altro però vabbè avete la libra se me la date sarete debitamente ricompensato va bene quindi continua anche la quest del stellazio prendete la vostra ricompensa dall'inserviente per favore elisir che non fa schifo avete la virgo se me la date sarete debitamente ricompensato yes tienila virgo prendete la vostra ricompensa dall'inserviente per favore 10.000 kill avete la leo se me la date sarete debitamente ricompensato yes ecco a lei signorino prendete la vostra ricompensa dall'inserviente per favore cintura cintura nera che noi ovviamente abbiamo già ricevuto ok non ne abbiamo più ma ne prenderemo un'altra breve quindi anche perché questa è l'occasione migliore prima della finale ovviamente perché dopo la finale ovviamente non si potrà fare visto che ci sarà un piccolo frammento di storia che bisognerà che bisognerà necessariamente fare per uscire e andare praticamente a fare tante piccole cosucce alla cittadina di Dali al villaggio di Dali anzi completare anche la side quest del caffè vabbè qui possiamo scappare perché tanto non c'è nulla da non c'è nulla da combattere non c'è completamente interesse nel combattere siamo decisamente più forti ad un livello decisamente superiore quindi oltrepassiamo bello quel ponte così che non l'hanno fixato dopo tutto sto tempo eh sì però mi devi fare passare yes mi lascia passare a posto quindi possiamo passare via ok allora direzione villaggio di Dali e anche ovviamente la torre di vedetta del vecchio molid esatto noi già abbiamo i caffè quindi possiamo completare questa questa quest abbiamo oddio prenderemo adesso i caffè perché manca l'ultimo ancora caffè da prendere ma lo prendiamo adesso perché è uno dei migliori spot per poterlo fare prima di fare ciò però come potete notare finalmente il mulino è bloccato quindi che cosa vuol dire che se vi ricordate bene noi avevamo lasciato in sospeso dei forzieri qua quindi un altro elisir e qui abbiamo un cerchietto che sono oggetti che noi già abbiamo però fa sempre comodo averne di più e un'altra cosa che possiamo fare adesso al villaggio di Dalia che prima non potevamo fare è ovviamente andare qua perché perché se vi ricordate bene il capo o meglio il capù per così dire era andato ad Alexandria quindi non è più qui e quindi questa è l'occasione migliore per potergli svaliggere la casa il capovillaggio non c'è guardo nella stanza come funziona il minigioco della stanza il minigioco della stanza è molto semplice il bambino come potete vedere sta dormendo sul divano quindi ovviamente noi lo stiamo andando a disturbare all'interno della casa però se noi ci muoviamo lentamente e ci muoviamo in maniera ben precisa il bambino non si sveglia e quindi noi abbiamo la possibilità di guardare praticamente in tutta la casa qual è il trucco il trucco è quello di fare degli spostamenti brevi che cosa vuol dire vuol dire che se noi in questo momento abbiamo a disposizione di guardare sul tavolo sulla scala sulla stufa o sugli scaffali l'occasione migliore o per meglio dire il luogo migliore per cominciare sarebbero o gli scaffali o il tavolo perché come potete vedere gli scaffali e il tavolo si trovano rispettivamente uno alla sinistra e uno alla destra del nostro personaggio mentre invece la stufa e la scala si trovano praticamente dall'altro lato della stanza quindi faremo più rumore perché faremo appunto più distanza e quindi più passi all'interno della casa qualora si volesse cercare tutta la roba o comunque qualora si volesse esplorare tutta la stanza si può tranquillamente cercare nello stesso posto più volte per far riaddormentare il bambino e poi successivamente spostarsi nella zona successiva in che modo se io adesso cerco sul tavolo vedete il bambino fa perché vuol dire che si sta svegliando ho ottenuto la mini bran che è comunque un oggetto raro ma se io continuo a cercare sul tavolo vedete il bambino prende praticamente una sorta di sonnolenze in più è come se prendesse uno stack se volessimo parlare in termini di opera omnia in generale il bambino può avere fino a tre stack di sonno il primo che è appunto il segnale che si sta svegliando il secondo sono le z che appunto sta indicando che il bambino sta dormendo il terzo stack di sonno è quando appunto si sente ronf ronf quindi io in questo caso continuo a cercare sul tavolo e il bambino come potete vedere adesso fa ronf ronf nel momento in cui il bambino fa ronf ronf io posso spostarmi in un'altra direzione quindi sulla scala il bambino si sta svegliando quindi noi continuiamo a cercare sulla scala facciamo riaddormentare il bambino vedete con lo z z poi sempre sulla scala ronf ronf e quindi ci possiamo spostare stufa chiave di capù che era l'oggetto chiave che mi serviva quindi cerchiamo ancora nella stufa il bambino dorme ci spostiamo sugli scaffali il bambino ancora dorme non c'è niente sempre sugli scaffali il bambino sta dormendo e adesso possiamo uscire e praticamente non ci siamo fatti sgamare quindi abbiamo avuto la possibilità di rubare gli oggetti che ci interessavano senza avere nessun malus senza farci beccare e senza farci buttare fuori una volta fatto questo finalmente possiamo aprire con la chiave di capù questo cancello ci vuole una chiave speciale per aprirla c'è inciso chiave di capù quindi apriamo che era la stessa porta che avevamo visto all'inizio quando siamo venuti per la prima volta a Dali ma che non potevamo aprire a causa appunto del fatto che capù ci buttasse fuori di casa e qui c'è un forziere con ben 30.000 gil ma se si guarda sotto il forziere abbiamo l'ultimo caffè il caffè Bluman quindi abbiamo ufficialmente raccolto tutti e tre i caffè caffè Mocca caffè Kiliman e caffè Bluman fai maturare i chicchi li tosti e li macini bene stai sicuro che solo quello è il vero aroma molid del villaggio Dali e poi Bluman è un caffè gustosissimo iper iper fragrantissimo anzi rarissimissimo mandalo giù e non te lo scordi più il banditore dell'asta quindi abbiamo completato praticamente quello che avevamo lasciato in sospeso al villaggio di Dali c'era anche il forziere con l'elisir qua ma credo di averlo già preso yes anche perché come potete vedere adesso non si poteva prendere più con la donna messa lì di nuovo davanti al forziere e quindi preso anche il caffè andiamo alla torre di vedetta torre di vedetta là c'è molid ma prima parliamo con la ragazzina avete bisogno del signor molid? sì il signor molid è fuori a godersi i suoi ultimi raggi di sole andate a cercarlo da quando il cargo ship ha smesso di venire il signor molid ha perso la voglia di vivere qua c'è il modellino che lui ci ha promesso quindi adesso che lui poverino è triste noi lo ritiriamo su di morale no? perché abbiamo i caffè ah 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 non ci posso credere i tre leggendari tipi di caffè me li dai? certo grazie sei molto generoso oh e finalmente si sorseggia i suoi caffè come sono felice finalmente posso bere il caffè che da tanto sognavo ormai ho avuto tutto ciò che desideravo dalla vita posso morire anche subito e raggiungere in cielo la mia dolce metà te lo spedisco contento? ok quindi in questo caso lui ci spedisce il modello dello scenalante infatti come potete vedere adesso non c'è più perché ce l'ha spedito ma dove ce l'ha spedito? eh lo vedremo tra poco c'è un luogo ovviamente che per Gidan rappresenta casa quindi c'è solo un luogo in cui può aver spedito il modello dello scenalante ovvero nella Tana dei Tantarus all'Imblum e dopo lo andremo anche a vedere perché tra l'altro dopo per trama ci sposteremo all'Imblum quindi avremo modo di poterlo vedere qui non combatto perché ovviamente le creature sono troppo più deboli di me quindi non ha completamente senso combattere si il lascia passare a posto quindi ritorniamo adesso a Toleno perché adesso possiamo ritornare a Toleno e possiamo finalmente affrontare il campione ok potrei anche mettere effettivamente il trucco di non avere incontri casuali ma in realtà non mi interessa perché tanto scappo subito sono troppo più forte quindi non ho bisogno di anche se per una questione magari di pulizia lo potrei fare ma ok e siamo ritornati a Toleno ok a questo punto possiamo possiamo chiudere il cerchio di Toleno e possiamo andare anzi salviamo perché effettivamente forse mi conviene salvare così almeno se perdo posso ricaricare e fare soltanto l'ultima sfida perché se no dovrei effettivamente rifarle tutte e mi rompo le palle è vero che comunque il campione utilizza solo una tipologia di carte perché utilizza solo una tipologia di carte però è molto bravo quindi ha delle carte che comunque riesce a sfruttare bene e quindi potrebbe mettermi in difficoltà anche perché non ho farmato le carte perché se avessi farmato le carte sarebbe stato diverso allora il 9 insieme a 6 7 8 e 10 sono a mio parere i migliori Final Fantasy fino a ricreati beh per me 7 8 e 9 rappresentano la trilogia dei miei Final Fantasy preferiti quindi Granduca è qui lo so ma con questo buripasso è dura un campione non dovrebbe mai mostrarsi insicuro su iscriviamoci wow il campione è arrivato esatto il campione non è altro che Sid io sono Erin la marina eretta il campione in carica sono pronta per affrontare la finale scusate per l'attesa prego prego entrate allora io vado ma oddio grazie per il follow taromisaki89 benvenuto benvenuta allora io vado ma uno scaraburi che schifo pussa via vattene ecco scusate ma questo scaraburi è la mia cosa il campione uno scaraburi come mascot scusatelo è un ragazzino niente niente e quand'è che sarei diventato la tua buri mascot lo so ma così riusciamo ad ingannare la giuria e a farvi partecipare alla finale tutte buri scuse le tue sono io il buri campione vedete buri buri di qua e buri buri di là ecco il campione vero effettivamente è Sid solo che essendo uno scaraburi ha praticamente partecipato al torneo per vie traverse ovvero incaricando praticamente Erin la marinaretta di essere le sue vecino quindi di essere il campione al posto suo fan di fan of fantasy 9 e allora buonasera benvenuto o benvenuta si può mettere comoda prendete una cioccolata godetevi lo spettacolo ah ecco infatti avevo sentito dire che il campione manovra soltanto le carte dello scaraburi esatto il suo soprannome è Erin il buri maestro perché appunto tutte le carte come appunto vi stavo dicendo prima sono carte scaraburi e le carte scaraburi sono molto particolari effettivamente allora io siccome allora in realtà non ho formato carte quindi devo fare un po' attenzione perché non ho carte fortissime purtroppo ho soltanto carte con buoni triangoli che mi consentono di di gestirmi bene tutte le tutte le manovre difensive però per quanto riguarda l'offensiva sono sono un po' scarsicello in realtà quindi devo fare attenzione eccolo là allora 1p e 10 ok quindi posso fare così bravo se continui a giocare così mi fa un favore no così magari no easy perfetto e abbiamo ottenuto tutte ovviamente le carte delle scaraburi perché giustamente le abbiamo girate tutte abbiamo fatto il perfect un po' come funziona su final fantasy 8 no che se fate praticamente perfetto con la regola dello scambio potete ottenere tutte le carte in una botta sola questa addirittura 2x minchia non l'avevo ne raccorto che era in 2x quella questa è 1p quindi la posso buttare 1p via ok e abbiamo ottenuto anche il transmigranello oggetto che poi andremo a vedere di utilizzare al meglio dei modi complimenti per la vincita non sapevo che il campione fosse il pilota dell'idrovolante di Lindblom piacere io sono Erin che cosa buri dici il buri campione sono io ma guarda chi si vede il granduca sid ancora scaraburi sempre il solito buri maleducato che ci fai qui volevo partecipare al buri torneo poi c'era un'altra cosa che volevo buri provare provare sì volevamo provare a guidare il prototipo dell'ildagarde 2 l'idrovolante che vola senza nebbia buri esatto non è ancora veloce ma siamo buri riusciti intanto ad arrivare fin qua come mai l'avete voluto provare proprio adesso la pace è sempre tornata nel mondo ma temo che non buri durerà a lungo non ti preoccupare ci penserà la regina garnet a mantenerla ecco esatto e proprio per questo motivo anche io preferisco tantissimo il triple triad secondo me il triple triad è il gioco di carte più bello anche come minigioco peccato che poi nell'otto il triple triad abbia un valore troppo troppo pesante perché con le carte su final fantasy 8 si possono fare tante di quelle porcate che lo vedremo quando rifaremo anche l'otto in perfect vi farò vedere ovviamente tutto quello che si può fare nell'otto che è un qualcosa di scandaloso ciao ciao liberi siamo nei guai aiuto ehi eico che c'è guai in vista il muguri di toleno ha detto che chi l'ha buridetto alexandria alexandria esatto ecco perché dovevamo fare tutte le robe di dali adesso perché adesso ci sono degli eventi di trama che purtroppo non possiamo schippare esatto si può rompere il gioco tranquillamente al cd1 quindi figuriamoci no 5k magici non si buttano la felicità di domani dorme per dimenticare l'infelicità di ieri spera di fare i sogni d'oro e dimenticare la triste realtà è una notte tranquilla come tutte le altre alexandria ha festeggiato l'ascesa al trono della nuova regina e ora stanca riposa una sbronza e un'allegra serata cancelleranno forse il duro passato e daranno il benvenuto al roseo futuro la festa non è ancora finita o meglio sta per cominciare che si aprono le danze dalle fiamme infernali che bruci in alexandria vieni bahamut vieni a cantare il requiem alla tua vecchia padrona sempre teatrale cucia che è un qualcosa di incredibile vabbè tu dom le devi buttare le 5k magiche c'è poco da fare io l'ho sempre chiamato bahamut anche perché bahamut non mi suona tantissimo cioè non mi suona benissimo bahamut si presto di qua ho paura famiglia Ippo che corre che è abituata a correre che è velocissima che decolla maestà maestà e bahamut vero beatrix convocate immediatamente tutti mi sono già presa la libertà di farlo aspettano solo i vostri ordini maestà ecco qui c'è un altro piccolo minigioco che si deve che si deve effettuare perché questa è una cosa infamissima in realtà del gioco perché se vi ricordate bene quando nel primo cd viene presentata la squadra Pluto ognuno dei Pluto era bravo a fare qualcosa quindi se voi ovviamente non avete schippato i dialoghi avete letto con attenzione avete prestato orecchio e occhio soprattutto a quello che avete letto sicuramente sapreste cosa fanno i membri del Pluto della squadra o Pluto ovviamente e in che cosa sono bravi battaglione adunata alexandria in pericolo riporteremo l'ordine nel regno in men che non si dica attenti ecco qua sua maestà il battaglione è pronto per entrare in azione attendiamo vostri ordini allora come potete vedere abbiamo praticamente diversi compiti che dobbiamo assegnare ai soldati qui presenti ora se si fanno tutti nel modo corretto si ottiene una ricompensa migliore ovviamente quindi anche in questo caso un po' come il ballo di Squall e Rinoa con gli strumenti azzeccati la musica azzeccata per la festa del Garden di Balamb anche qui bisogna fare delle scelte solo che il gioco in questo caso è un po' infame perché in realtà tutte quante le nostre richieste o per meglio dire per quanto riguarda tutte le nostre raccomandazioni sono già messe in ordine quindi non dobbiamo farci più di tanti viaggi mentali non c'è bisogno perché sono tutti in ordine praticamente nel senso che raccogliere informazioni ci saranno i primi poi ci saranno i secondi i terzi e i quarti che faranno tutti ovviamente a caso nostro quindi non c'è bisogno di spremersi tanto le meningi solo che il gioco essendo infame ti fa sbagliare facendoti credere di dover scegliere delle combinazioni diverse quindi raccogliete informazioni e chi ci va ovviamente a anzi in questo caso no sono messi al contrario qua forse nella versione inglese erano messe forse nella versione inglese erano messe giuste qua invece no sono messi sono messi sbagliati perché le informazioni le deve prendere coher raccogliere informazioni è la nostra specialità raccogliere informazioni è la nostra specialità esatto qua le hanno messe al contrario che bastardi meno male che io me li ricordo perché meno male che me li ricordo perché mi ricordavo fossero in ordine però forse erano in inglese nell'ordine giusto e non nella versione italiana a meno che sono state tradotte male non mi ricordo mandate aiuti al borgo in questo caso ci sono Weymall ed Hagen conosciamo il borgo come le nostre tasche perfetto poi chiedere aiuto militare a SID mettiamo Rauda siamo bravi a recapitare messaggi esatto e poi infine al cannone ci sono Token e Mergen che questi sono tutti in ordine praticamente ridurremo quel bastardo in polvere ok tutti giusti perché in base alle frasi che dicono voi già sapete se avete scelto in maniera corretta oppure no Bahamut su Final Fantasy X per me rimane sempre quello con la Chadness più alta di tutte Loevic ti si piazza davanti al nemico incazzato e abbraccia con certe come dire cazzo vuoi ti spacco eccellente maestà e abbiamo ottenuto la spilla d'angelo che è il premio più alto in questo caso di questo minigioco Beatrix è il nostro turno eccoci qua ho dato gli ordini a tutti io però cosa devo fare? oh madre mia datemi la forza torna sempre a Joker in quel quadro Brann letteralmente Joker e qui parte una host in particolare che già ci fa capire quello che succederà da qui a breve siete pronta Beatrix? pronta e disposta a tutto fosse anche la mia ultima battaglia così mi piacete Beatrix combattente aggressiva eccoci qua allora sistemiamo un attimo gli equipaggiamenti io abbiamo ok qua ancora ho l'icebrand quindi devo imparare ancora robe ok tu vabbè tu sto cazzo perché tanto non impari niente via ecco qua Beatrix bella guayona ok non dovremmo avere grossi problemi con questi nemici perché tanto sono diciamo di livello decisamente più basso rispetto rispetto ovviamente al mio party anche se non l'ho livellato in maniera esagerata però non dovrebbero esserci grossi problemi ok let's go qua c'è il vecchio la vecchia metodologia del party no? col personaggio che ti segue sarebbe stato bello vederlo così effettivamente Final Fantasy 9 no? con il party che ti seguiva sarebbe stato sarebbe stato molto figo in realtà Steiner il nemico è nel corso esatto non possiamo esplorare ragazzi dobbiamo andare necessariamente dritti sento odore di diavolo il nemico è vicino Beatrix eccolo qua l'odore del diavolo beccati facciamo anche un po' di spettacolo ah Beatrix Beatrix tra l'altro c'è la mod c'è una mod famosissima dove è possibile anche reclutare Beatrix che un giorno magari farò perché è una mod di Final Fantasy 9 che rende il gioco più difficile cambiando ovviamente alcuni oggetti alcune mosse alcune robe e tra l'altro darà anche la possibilità di reclutare Beatrix sarà figo da fare quello creature degli inferi questi due cavalieri vi esorcizzeranno per sua maestà per la principessa che non è più principessa adesso Steiner mi raccomando ricordati che adesso è una regina ovviamente noi ancora non abbiamo grosse non abbiamo grosse tecniche però facciamo dei bei danni lo stesso ok mentre ci godiamo la host ok Antimagix l'abbiamo appresa quindi possiamo cambiare anche la Icebrand e mettere la spada coral che finalmente insegna roba nuova ecco qui vediamo se possiamo insegnare altre robe ecco qua bravi così bravo imparate tutto a go go sì però fondamentalmente non è mai stata aggiunta Beatrix come come personaggio effettivo quindi questa mod ti permette di poterla reclutare di poterla avere in maniera permanente quindi è molto figa sta cosa bestie e mond è giunta la tua ora un peccato che non sia stato introdotto anche nel gioco originale perché sarebbe stato figo avere Beatrix come appunto come supporto facciamo un po' di spettacolo solo che giustamente nella mod non hanno messo soltanto Beatrix come personaggio giocabile ma ne hanno approfittato facendo in modo che minchia mi sono mi sono dimenticato di mettere in sogna però hanno praticamente permesso al giocatore anche di incrementare la difficoltà del gioco hanno fatto una sorta di randomizer quasi di Final Fantasy 9 con questa scusa quindi hanno fatto una randomizer con l'aggiunta di Beatrix reclutabile il che rende il tutto più figo state bene Beatrix io sto bene piuttosto voi non siete ferito non temete per questo impavido cavaliere ne arriva un altro quanto si riscarsi belli due attacchi in faccia sono troppi sarebbe meglio tornare al castello non abbandonerò mai il campo di battaglia combatterò per la principessa per Alexandria e per voi Beatrix sacrificerò la mia vita per proteggervi dal male Steiner coraggio Beatrix qui adesso c'è quella famosissima confessione che è stata spezzata una delle parti più belle per diciamo per coloro che hanno sempre scippato Beatrix e Steiner che ovviamente è una ship palese perché è una ship palese però vederla realizzata è tutto un altro paio di maniche Beatrix forse questa è l'ultima volta che incrocio il vostro nobile sguardo ma forse è l'ultima volta che posso sincerarvi è per questo che vorrei dirvi no Steiner non dite di più permettetevi di dirvi solo una cosa Beatrix no riservatevi queste parole per quando ci rincontreremo vivi e fino alla fine sempre lì il dico non dico e in questo caso addirittura Steiner si trasforma e va automaticamente in trance figata va automaticamente in trance bellissima bellissima questa parte no non è l'ultima volta che incrociano le spade è una airship e poi arrivo Eiko e vabbè piccoli particolari dettagli una musica da dove viene da sopra esatto questo è un suggerimento per farci andare appunto di sopra con garnet non mi ricordo se avevo altro che adesso potevo apprendere ma credo di no perché con loro avevo già preso tutte quante le tecniche avevo fatto farming off camera però voglio controllare perché da un po che non portiamo Final Fantasy 9 c'è qualcosa c'è sempre rigene tra l'altro con la spila d'angelo quindi mi sa che le metterò anche sempre rigene anzi no però a garnet no perché tanto garnet anzi garnet ora le levo tutto perché tanto non la utilizzeremo per un bel po garnet si ora purtroppo subentrerà una delle meccaniche più disturbanti di Final Fantasy 9 almeno nei confronti di garnet intendo guardate la strada che si chiude dietro di noi e qui parte la cgi unita addirittura col gameplay eh ragazzi playstation 1 eh per fare una cosa del genere si sono si sono mangiati praticamente mezzo cd3 praticamente qua nel frattempo vi faccio vedere un pochettino la nostra garnet con la passera di fuori anche qua col culo bello con le mele scolpite ok basta possiamo andare ricordiamoci che a 16 anni quindi stiamo calmi stiamo buoni ricordiamoci che a 16 anni che posto è questo da dove viene la musica cosa ci faccio qui madre gitan no no non posso non posso continuare a dipendere da gitan sono la regina d'alexandria io devo difendere il mio regno accidenti come ondeggia eh non ci si può far niente l'ho costruito io ci sarà sicuramente un buribullone un po' lento un buribullone lento così ci schientiamo al suolo se i miei calcoli sono buri esatti dovremo riuscire ad arrivare buripelo buripelo ad alexandria ah perfetto gitan mi sento male vivi va a riposarti in cabina vedrai starei meglio è incredibile come tutti si comportino bene con vivi e invece tipo a gitan lo prendono e lo trattano malissimo cioè è incredibile sta cosa cioè tutti i convivi sono gentili però io devo fare una cosa perché credo che mi dia abbastanza fastidio un secondo solo ragazzi perché ecco mi dava troppo fastidio la cam dall'altro lato mi dispiace l'ho provato a schia ho provato a capovolgerla però mi dà troppo fastidio quindi preferisco tenerla così vedrai starei meglio infatti buri va bene ecco che c'è cos'era quella luce quale eccola lì madonna daga che succede daga cosa parla sento la voce di daga che dici smettila piuttosto mettiamo in sesto questa bagnerola questa luce è forse quella del verdetto divino del verdetto divino dove vai attenta che cadi la sciamana mi chiama è l'ora del verdetto divino di alexander via salto della fede e se no eiko che fai qui ero in barca e ho sentito la tua voce davvero anch'io ho sentito che eri qui accanto a me e poi il mio corpo ha cominciato a brillare eccoci sì è questa lui è questa luce daga è la luce del destino delle sciamane del destino delle sciamane sì questa luce è il potere celato nei quattro gioielli ancestrali quando uno sciamano si illumina di questa luce vuol dire che uno spirito sacro lo sta chiamando daga dobbiamo accettare il nostro destino di sciamane ma io non so cosa devo fare non preoccuparti fa come ti dico io dammi la mano e qui parte praticamente l'animazione dell'abiti di garnet in opera omnia esatto così va bene sì ora concentrati e recita in silenzio oh spirito onnipresente quando le tenebre alla luce si sostituiranno tu anima onnipotente ascolta la voce di queste sciamane che ti chiameranno e qui ora parte l'animazione effettivamente della bt con tanto di osta anche della bt di garnet suo per omnia eccola eccolo qua ed ecco perché appunto la città di alexandria si chiama effettivamente così perché appunto la città di alexandria custodiva il potere di alexander che ha letteralmente disintegrato bahamut tra l'altro che ovviamente bahamut è considerata una tra le summon più forti dell'universo di dissidia perché per l'appunto bahamut è il re dei draghi quindi è considerato uno dei più forti se non il più forte come spirito invocativo invece qua alexander ha dato testimonianza di quanto possa essere forte che spettacolo stupendo alexander il leggendario spirito dell'invocazione quelle ali splendenti difenderanno il castello che coraggioso sei più potente di bahamut ti aspettavo alexander ho pensato di farti venire a prendere da una carrozza magica spero solo che sia di tuo gusto vieni invincible alexander sarai mio beh questo effettivamente bisognerebbe vederlo poi vabbè bahamut resta comunque una delle summon più forti a prescindere dell'universo di final fantasy non c'è poco da dire questa volta sei andato troppo lontano Kuja eccolo un altro dei personaggi che a me piace tantissimo anche perché porta il nome di un altro mio personaggio preferito ti ho lasciato distruggere Gaia a tuo piacimento ma non tollero che abbia dimenticato il significato della tua esistenza credo sia meglio che tu capisca una volta per tutte a quale potere stai facendo fronte e anche tu Gidan oh come fa a conoscere Gidan perché nomina Gidan chi è Gidan no ovviamente non sono la stessa persona però hanno lo stesso nome hanno lo stesso nome che succede perché Invincible non arriva lo spirito di Alexander deve essere mio gli farò perdere il controllo come feci con Bahamut allora è stato Garland idiota anche lui si dirige verso Gaia allora ha capito quali sono i miei piani però perché Invincible no non è possibile Garland è uno dei miei personaggi preferiti di sempre di Final Fantasy però partendo dal primo Final Fantasy e lui condivide il suo nome e anche lui è molto figo come personaggio accidente buri ce la siamo vista brutta per un pelo ci giocavamo l'idrovolante e non solo ci lasciavamo anche la pelle ma non avevamo altra scelta potevamo buri usare solo quello beh ragazzi avremo l'idrovolante a pezzi ma siamo ad Alexandria infatti buri sì ma io non ci voglio salire più mi dispiace buri attenzione dove è Garnet veramente la stiamo cercando anche noi allora con permesso forza cerchiamo Daga Eiko ah certo Eiko già era passato in secondo piano ed Eiko sì certo allora vediamo se io ho qualcos'altro da utilizzare per ora per apprendere roba credo di no ecco qui abbiamo qui stiamo apprendendo luna piena vabbè luna piena per ora non mi interessa abilità app William Tell ecco provvidenza provvidenza qui tu stai apprendendo roba facciamo un piccolo check così giusto per un piccolo check giusto perché non mi ricordo dove c'eravamo lasciati l'ultima volta ok qui abbiamo preso tutto ok tu anello reflex vabbè tu ancora eri nuovo nel party quindi stavi apprendendo tutto ma anche se ovviamente non dobbiamo combattere non ci sono combattimenti non c'è niente oddio sbagliato non ci sono né combattimenti né niente però era giusto un check perché è giusto che sia così sempre meglio fare un check prima in questo caso non si chiudono dietro di noi le spade perché ovviamente noi non siamo gli invocatori quindi che è questo? chi avrebbe mai immaginato che il castello di Alexandria nascondeva tale meccanismo Daga e Eiko saranno sopra? credo di sì andiamo Buri che Buri fai? vado io voi andate ad aiutare gli altri perché? vengo anche io cerca di capirmi in questo momento c'è solo Daga nella mia testa non posso pensare ad altro non potrei difendere anche te non ce la farei capisci? bah vuoi andare da solo? vai pure tanto anche spiegarti che vogliamo solo aiutarti non lo capiresti mica vai vai Gidan a volte ammiro la tua testardaggine però ricordati che non è facile proteggere una persona lo so Freya andiamo Vivi ci pensa Gidan eh? ma io su vieni Buri Sid da Scaraburi è stupendo Vivi cerca di capirmi serve un motivo per voler aiutare qualcuno è necessario avere un motivo per voler vivere no finalmente me ne sono reso conto hai ragione Gidan corri dalla signorina via corriamo dalla signorina wow cos'era questa scossa? wow e qui un'altra scena guardate le ali esatto voi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda l'ha incazzata come un mostro. Sta scena è stupenda. Scusa, Daga. È colpa del mio orgoglio. Jitan, ma abbiamo fatto qualcosa di male? Parliamo dopo. Ora siamo in pericolo. Fuggiamo da qui. Mamma mia. Completamente distrutto. Molte anime sono ritornate nel loro pianeta d'origine. Ma questo è nulla se paragonato alle migliaia di anni di cui abbiamo bisogno per attuare il nostro piano. Un giorno il flusso di anime non sarà più cosa di Gaia. Ma non è ancora giunto quel momento e non dobbiamo quindi invertire il flusso, ora. Forse ti avrei dovuto far lavorare di più per me. Ti sei aggrappato a Gaia per vivere il limite temporale della tua misera esistenza. Forse anche questo era il tuo destino, Kuja. E il mio, forse, sarà quello di incontrare di nuovo l'uomo che ti rimpiazzerà. Che cosa vuol dire? Eh. Boh. Si scoprirà. I lavori di ricostruzione del borgo procedono secondo i programmi, Granducasid. Anche i buri piloti sopravvissuti si stanno dedicando alla costruzione dell'Ildagarde 3 nel borgo industriale. I cittadini stanno dando il buri massimo. Il popolo vi ama, Granduca. Siete l'orgoglio del paese. Se c'è fiducia nel sovrano, un regno non crollerà mai. Sarà davvero così? Eh, ciù! Chi è? Calò? Ciao, Marco. Baciamo le mani, ah! Come procedono i lavori? Sempre peggio, buri. È impossibile riprendersi. Fa davvero così male? Anche peggio, buri. Ci stiamo dedicando all'Ildagarde 3, più che alla città. E Jiden? Come sta? Sta bene. Credo che fra poco si buri sveglierà. Blank, va al castello a dare un'occhiata. Quando si sveglia, digli di venire nella mia buristanza. Ecco, e qui c'è adesso da fare una piccola manovra particolare per sbloccare un filmato segreto, un piccolo filmatino segreto. Daga? Eiko? Ma dove mi trovo? Ah, intanto ci apriamo i forzieri che fanno sempre piacere. Dei forzieri nuovi fanno sempre piacere. Ecco qua. Poi, tu mi devi dare una lettera? Yuppie, l'imblume è stata ricostruita. Odio passare per Forceroo. Posso chiederti un piccolo mogu favore, cupo? Consegneresti una lettera a Moldon, cupo? Certo, dammi. Non hai nulla, vero? Ok, quindi salviamo. Sì, vabbè, il torneo di carte l'abbiamo finito da poco. Niente di interessante. Ok. Altro salvataggio. E via. Gidan, ti sei svegliato? Non hai ferite gravi, mi pare. Blank, cosa fai qui? Senti, ma Daga dov'è? Credo che sia sulla torre d'avvistamento. Grazie. Ecco. Bisogna subito rispondere dov'è Daga e poi andare a raggiungere Daga. Subito. Perché se si va ad esplorare in giro, se si va a fare altre robe, si può perdere questo filmato. Invece, io ve lo faccio vedere. Non cambierà mai. Il suo unico pensiero sono donne, donne, donne. Quindi, primo filmato in tempo reale, la naufraga. Che questo è carino. Ehi, cos'è? Un morto in mare? Dio mio, un cadavere. Insomma, volete lavorare o no? Uaah, comandante. C'è qualcosa che galleggia? Dove? Fatemi vedere. Prima di fare il soldato era un uomo di mare, sapete? Ma è morto? Presto, ha chiamato un dottore. Non siamo certi che si è deceduto. Ecco. Accidenti, che prontezza. Visto come mi rispettano? Certo, effettivamente trovarsi quina di faccia così che con la lingua ti inizi a fare così è un po'... Ma ando stamo qua? Oh, c'ho una fame. Ok. A questo punto bisogna subito, e ripeto, subito andare verso Garnet in modo tale da sbloccare un filmato segreto. Quindi, terzo livello. Poi dopo andiamo a prendere qualche altro forzieruccio in giro per la mappa ma per il momento dobbiamo necessariamente andare da Garnet. Quindi andiamo di qua. Poi andiamo di qua. E andiamo dalla nostra Garnet. Eccola qua. Daga, stai bene? Accidenti, stavolta anch'io me la sono vista brutta. Ma il peggio è passato. Mi dispiace se ti ho fatto preoccupare. Ecco. Che ti prende? Ah, ho capito. Non ce le fai nemmeno a parlarmi per l'emozione di vedermi dopo tanto tempo, eh? Uffa. Ora mi rimette il muso. Avrò fatto qualcosa di male? Scusa se ho fatto qualcosa che non dovevo. Forse un po' giù per la morte della madre. Adesso cercherò di distrarlo un po'. Che te ne pare giù al borgo stasera alle otto? So che sei molto triste, ma due chiacchiere con un amico ti faranno bene? Forse non le piaccio. Meglio lasciarle in pace. Ti capisco. Magari hai solo voglia di stare da sola. Scusami. Ti lascio stare tranquilla. Ci vediamo. Gidan, ti preoccupi per me. Grazie di cuore. Allora. Ecco. E qui parte l'evento di cui vi stavo parlando prima. Ovvero il filmato che, se fossimo andati a Zonzo in giro per il castello, non avremmo visto. Ovvero il servizievole Blank. Ovvero Blank che arriva e ci aspetta per comunicarci il messaggio che ci aveva detto Sid. È corso via prima che gli potessi dire di andare nella sala del Gran Duca. È incorrigibile. Quando c'è qualcuna che gli piace, non ascolta più nessuno. Accidenti. Esatto. È un piccolo filmatino, una piccola sciocchezza. Comunque, prima avevo letto un commento di Matt, se non mi ricordo male, che aveva parlato, per l'appunto, di buchi di drama ed erba dell'eco. Perché? Che cosa succede in questo caso? Questa è una buona osservazione, ma bisogna capire come funziona il mondo di Final Fantasy. O per meglio dire, come funziona il mondo di Final Fantasy IX. Garnet, in questo momento, ha subito uno shock. Ha subito un fortissimo shock. Che ovviamente adesso poi avremo modo di approfondire nella storia del gioco. E perde praticamente l'uso della parola. Quindi non riesce più a parlare. Ora, giustamente, all'interno del gioco esiste l'erba dell'eco, che tecnicamente cura dal mutismo. Ma, per quanto riguarda l'erba dell'eco e la cura del mutismo, può essere curato solo se indotto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se un soggetto esterno mi induce il silenzio, tramite una magia o tramite, appunto, un incantesimo, io posso utilizzare l'erba dell'eco perché ho la volontà di parlare. E quindi posso guarire da quella cosa. In questo caso, Garnet sta subendo un blocco psicologico. E quando, ovviamente, subisci un blocco psicologico, devi essere soltanto tu l'artefice della tua guarigione. Quindi, in questo caso, Garnet non è che se prende l'erba dell'eco riesce a parlare. No, perché, appunto, Garnet ha un blocco, ha subito uno shock. Quindi è lei stessa che deve riprendersi, cosa che poi, ovviamente, farà. Però, per questa fase di gioco, Garnet diventa praticamente inutilizzabile. Perché gli eventi della trama caratterizzeranno il gameplay. E questa è una cosa bellissima, ovviamente, che c'è su Final Fantasy IX e che non si è mai vista, praticamente, in altri Final Fantasy dove, praticamente, Garnet, essendo distratta, perché, appunto, pensa ad Alexandria, pensa a tutti i morti, pensa al fatto di aver fallito il suo incarico da regina, non riesce, a volte, ad effettuare le azioni. Quindi, se noi le diciamo di fare una magia, se noi le diciamo di fare una cosa, il più delle volte, Garnet, praticamente, non rispondere ai comandi. E quindi, di conseguenza, diventa, in questo periodo del gioco, inutilizzabile. Infatti, io, Garnet, a parte che non la utilizzo mai nelle mie run su Final Fantasy, almeno su Final Fantasy IX, Garnet non la utilizzo mai, perché, come maga bianca, preferisco di gran lunga Eiko, sia per il discorso delle stats aumentate con Marcus portato al 99, ma anche con il fatto che, per l'appunto, possiede delle magie più belle, a mio avviso, perché, comunque, possiede delle magie migliori, come maga bianca, ma anche Eiko diventa superflua quando si master a Quina. Perché, nel momento in cui noi avremo Quina, con tutte le tecniche e con tutto ciò che è in grado di fare Quina, non avremo bisogno di maghe bianche nel party. Quina fa tutto. Fa cure, fa buff, fa debuff, fa danni, fa veramente tutto, quindi neanche Eiko sarà indispensabile nel party finale. Ci tenevo a fare questa piccola riflessione, perché mi era piaciuto il commento, e quindi volevo riprendere questa cosa, perché, appunto, era un'osservazione intelligente, e ci tenevo comunque a ribadirlo. Sì, anche Ignis cambia il gameplay quando diventa cieco, però diciamo che è una cosa che comunque vivi soltanto in quella frazione di gioco. Mentre invece, comunque, Garnet, il fatto che comunque tu te la trascini per un bel periodo di tempo, nel mezzo, tra l'altro, della trama, è fenomenale, sta cosa. Sei arrivato, finalmente. Senti, Gidan, cosa vuoi? Devo dirti una cosa. Beh, cosa? Ah ah ah. Eh? Come va con Daga? Avete litigato? Non sono affari tuoi. Avanti, cosa mi devi dire? Uh, ehi, non ti scaldare troppo. Sono venuto a dirti che il Granduca City ti cerca. Comunque, vai nella sala del Granduca. Va bene. Ciao. Esatto, Igni si diventa praticamente Daredevil. Poi, soprattutto nel DLC. Ok, a questo punto adesso, che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, andiamoci a prendere un paio di forzieri. Che, ovviamente, ci sono un paio di forzieri che dobbiamo recuperare. Il primo si trova qui, alla porta del Drago Marino. che è questo. Con una bella fascia chimera. E poi, andiamo alla porta del Drago Terrestre. perché anche qua c'è un altro forziere. Con una panacea, niente di che. Qui non possiamo uscire, siamo bloccati, perché per trama, appunto, siamo bloccati. Poi, tu, tu non avevi niente, giusto? No, ultimamente non arrivano lettere. Ok, ciao Montè. Quindi, andiamo al primo livello. E adesso possiamo andare da Seed. Quindi, andiamo al terzo livello. perché adesso qua, purtroppo, o per fortuna, da un certo punto di vista, siamo vincolati con una parte di trama. No, forse era sotto Seed. Era di qua. Era nel salone. Sì. Ciao, Gidan. Scusate se vi ho fatto preoccupare. Comunque sto molto meglio ora. Bene, ti sei rimesso, vedo. Sì, mi sento bene. Gidan, ti chiama Seed. Vai nella sala del Granduca? Ok, ricevuto. Ci vediamo dopo. Perfetto, e ora possiamo salire. Io, in realtà, Nintendo Direct di stasera non mi interessa più di tanto. Non ci sono robe che non ci sono robe. Prego, il Granduca l'aspetta. Non ci sono robe che mi interessano, sinceramente. Per cui non credo che lo guarderò. Ti sei buri preso? Allora, cosa c'è? Ho capito diverse cose dall'incidente di Alexandria. Vorrei spiegarle anche a voi, buri. Gli altri sono già giù nella sala del consiglio. Cominciamo subito la riunione. Buri perfetto. da questa parte. Guardate che figo Seed che praticamente con tutto il trono scende sotto e non deve neanche spostarsi praticamente. Figata. Ci siamo tutti? No, manca la principessa. Prima era sulla torre d'avvistamento. La vado a chiamare io. Eiko, aspetta. Vabbè. Intanto noi buri iniziamo. Innanzitutto vorrei dirvi che sono felice di aver buri tutti qui sani e salvi. E qui parte l'evento rimorsi di coscienza. che sono i veri pensieri di Garnet che è quello che vi dicevo prima. È colpa mia. È solo colpa mia se Alexandria è distrutta. Era una splendida città. Ora non è altro che cenere. Gente innocente ha perso la vita. Tutto per cosa? Per causa mia? Ha ragione, Eiko. È stato un errore invocare Alexander. Ma non è colpa di Eiko. È colpa mia. Non dovevo andarmene di casa lasciando mia madre da sola. e nella mia fuga ho coinvolto persino Gidan e Vivi. Se fossi rimasta a casa con mia madre avrei potuto fermarla. Forse perché l'ho lasciata sola che è successo questo. Cioè si sta facendo praticamente delle paranoie incredibili senza motivo. Credevo di riparare i suoi errori prendendo il suo posto sul trono. Invece ho combinato un disastro. Cosa posso fare? Io... Esatto. Cioè è caduta praticamente in un complesso incredibile. Tuttavia la città in su buio e vite innocenti sono state sacrificate. È vero Buri. Anche la principessa ha sofferto molto purtroppo. Ha visto questo posto in rovina e il popolo fronteggere la morte. È terribile quello che ha vissuto. Io e Beatrix abbiamo combattuto e ovviamente vinto ma è stata dura. Persino un baldo cavaliere come me in quel parapiglia ha temuto la morte. Poi io e Beatrix ci separammo oserei dire per sempre per concludere il cavaliere Stenner è venuto ad aiutarci a ricostruire il regno di Limblum. I cittadini sono piombati nello sconforto e ci vorrà del tempo affinché si riprendano. Sono richiesti la collaborazione e il contributo dei sopravvissuti. Certo che quel cuce è davvero un bastardo. Prima ha distrutto Burmesia poi Clara ed infine Alexandria ma dove vuole arrivare? quel maledetto l'hai visto com'è potente? Come pensi di affrontarlo? E questo è il problema. A proposito di Kuja ho visto una buriscena incredibile ad Alexandria. Cosa? Prima dell'esplosione finale l'ho visto fuggire via con l'Ildagarde 1 ma la cosa scaraburosa è che a bordo c'erano anche i maghi neri non erano semplici i pupazzi i buri erano dei maghi neri che parlavano non è possibile non mi dire che erano i maghi neri del villaggio ma è assurdo li ho visti con i miei buri occhi non ci posso credere la donna vivi incazzato come un mostro perché giustamente lui aveva trovato una casa con i maghi del villaggio quindi lui pensava che loro fossero buoni invece sta scoprendo che stanno dalla parte di Kuja quindi si è sentito tradito accidenti per poco Garland non mi uccide uccidere morire che idiozie io morire assurdo assolutamente impossibile e poi ormai è tardi la ruota ha già cominciato a girare tra l'altro lì si vedono già zone sonne che in realtà non dovrebbero vedersi con la risoluzione a 4k giustamente lo schermo è più grande cosa diavolo vuole fare quel vecchio decrepito crede forse di intromettersi nei miei piani acciderbolona che feritona tacete se non riesco ad impossessarmi di Alexander devo trovare un sostituto tra l'altro guardate Kuja com'è tutto sporco e logoro cioè è stato investito dall'esplosione di 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 Alexandria solo che non è morto ehi tu numero 234 rapporto non ti ho chiesto il numero avete completato i preparativi per il piano sì signore perfetto tutto prosegue per il meglio deve intrattenere quegli idioti ancora un po' io vado a riposare ora voglio essere in forma per la mia grande esibizione mi si è strappato il vestitino sì un pochettino si è si è lacerato un pochettino stai dicendo che è stato trasformato in scaraburi con un incantesimo della moglie gelosa che vergogna a buriburi scaraburi solo per essere stato un innocente don giovanni perché avete consegnato l'ildacarde 1 a cucia non fraintendere buri non gliel'ho dato se l'è preso buri comunque io rivolgo la mia burimoglie l'idrovolante questa storia è un disonore per il regno eh gli hanno fregato praticamente la nave quindi non possiamo fargliela passare liscia ben detto lo torturiamo lo mettiamo a rogo poi ok siete tutti coraggiosi ma non abbiamo un idrovolante chissà dove è andato quel bastardo dove diavolo lo troviamo e con cosa ho perso anche l'ildacarde 2 poi combinato così è dura dare ordini per la costruzione di un nuovo idrovolante buri vorrei tornare ad essere un uomo ma solo hilda conosce il burimodo oltania conosci qualche incantesimo che faccia effetto su di me veramente un modo ci sarebbe ho chiamato il dottor totto per questo dovrebbe essere qui a corte a minuti bene il dottor totto è un uomo di cultura vi aiuterà scusate il ritardo ciao cosechina oggi il miracolo è venuto ho fatto le crevasse che questo giro mi hanno devastata grazie ai culoni su discord molto pate sbrillini no noi stiamo tutti bene qua fortunatamente comunque si avevo letto che ti avevano aiutato quindi mi fa piacere alla fine il discord serve anche per questo quindi ci sta mi fa piacere che hai avuto modo di essere aiutata in maniera in maniera così in maniera così tempestiva grazie per dedicarci il vostro prezioso tempo no è un piacere ho saputo dell'incidente sono felice di vedere che state bene ma non vedo Eiko è la principessa non mi dite che tranquillo dottore Eiko ed Adaga saranno qui a minuti scusate ho pensato subito al peggio beh insomma dottore facciamo in modo che aiuto aiuto Eiko cosa c'è oh oh vi spa come sempre Daga 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 cosa Daga non parla più che dici non favella venite è nella sala degli ospiti Ehi Eiko vado a dare un'occhiata io voi aspettate qui dottore tu vieni con me vengo anch'io a questo buri punto la riunione è rinviata eh sì signori annuncio formalmente che la riunione è sospesa Gitan poi torna a darci notizie ok quindi andiamo alla sala degli ospiti quindi secondo livello aspettate un po' di pietà per gli anziani è qui sopra Daga principessa Garnet niente principessa state bene è uno scherzo vero? dottore si riprenderà che strano beh non c'è dubbio la principessa ha perso la parola la causa potrebbe essere attribuito allo shock subito le ferite nel cuore a volte sono così profonde da giocare questi brutti scherzi principessa rispondete ma dottore guarirà? credo di sì è una questione di tempo ma non sono in grado di dire quando si riprenderà del tutto dipende da lei da quando si rimargineranno le ferite nel suo cuore è una battaglia che deve combattere da sola esatto che significa? che ci vuole tempo se non vuole guarire non parlerà più noi possiamo soltanto cercare di alleviare il dolore che ha nel cuore capisco principessa potete contare sulla forza di questo baldo cavaliere ehi co prendi di cura tutti Daga per un attimo va bene ma tu dove vai? vado a prendere quel bastardo di cucia non gli permetterò di andare oltre dottore mi serve l'idrovolante il più presto possibile spiegami come posso trasformare il granduca calmati ora torniamo da Sid forza samurai andiamo la mia principessina bellissima ehi co già che ci sei vada pure il rincitrullito dottore potete farmi tornare un buriuomo solo la persona che vi ha fatto l'incantesimo può ridarvi sembianze umane che bel casino ma in un vecchio libro ho letto che esiste una magia che scioglie questo tipo di incantesimo davvero buri? così era scritto ma chissà se funziona davvero ci si può morire buri? oh no non si muore mica si tratta di ingerire tre pozioni se non funziona non succede nulla ma come ti pare basta che non lo fai morire ci serve l'idrovolante non metterti in mezzo tu fatti i buri tuoi la pelle è mia quali sarebbero le tre pozioni? la pozione insolita la pozione avvenente e la pozione sospetta poi si devono mischiare in proporzione 5-3-2 ah erano pozioni usate un tempo dagli artisti non deve essere difficile reperirle meno male temevo di non trovarle sono comunque delle pozioni che non si usano più molto oggigiorno mi pare che la pozione insolita ce l'avesse Ercina vado a cercarlo al borgo sì bravo Buri ecco vedete già praticamente abbiamo ottenuto degli indizi su dove su dove ottenere queste pozioni per chi dice che le utilizzavano gli artisti quindi vi ricordate gli artisti all'imbloom dove si trovano non glielo togli ohissa ohissa oddio oddio le vertigini mi vengono cina dammi il martellen dunque dove stava il martello aspetta un attimo te lo vado a cerca deficienten ce l'hai in manen ah dici questo ma questo è Ermino non lo presta a nessuno tirkien ma che vuoi Ermino ho detto che non to do ya capito allora prendi un altro martellen per chiodi sì moto piglio questa è un'altra piccola dicitura del fatto che Ercina non si separa dal suo martello quindi ricordate vicina e martello ok ok a questo punto dobbiamo andare alla ricerca delle pozioni però andare alla ricerca delle pozioni ovviamente andiamo al secondo livello andare alla ricerca delle pozioni ci permette anche di ottenere degli altri oggetti all'interno della città di Lindblom quindi dobbiamo fare un piccolo giro turistico per così dire della città quindi non andare subito da Ercina ma andare un pochettino a zonzo per trovare un paio di oggetti tra cui anche uno molto 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 interessante molto raro quindi andiamo prima al borgo commerciale e tra l'altro abbiamo anche la lettera da consegnare prima quindi allora però a questo punto io voglio sapere se vi interessa guardare il Nintendo Direct perché se vi interessa guardare il Nintendo Direct io posso staccare perché posso salvare posso salvare e collegarmi per il Nintendo Direct effettivamente perché siamo in tempo se no andiamo avanti allora qui intanto consegniamo la lettera una lettera finalmente cupo il servizio postale non funzionava molto bene ultimamente che bello caro Moldon Alexandria si trova in una cupissima situazione come staranno cupo e Monshu ho sentito dire anche che Stilskin è ad Alexandria se sei qualcosa scrivimi Mok non si può certo dire che sia una lettera allegra ma che ne sarà di noi cupo a questo punto allora salviamo andiamo avanti ovviamente faccio sempre blocchi separati proprio perché io poi fuori dalle live vi ricordo che mi ricontrollo tutto quello che ho fatto per vedere se ho dimenticato qualcosa e se ho dimenticato qualcosa poi l'aggiungo nel montaggio video che poi farò uscire successivamente sul canale youtube quindi fatto questo andiamo avanti e raccogliamo qui tataan Sagittarius un'altra Stellazio poi andiamo qui dove ci sono altri due forzieri qua i forzieri spawnano sempre quindi controllateli sempre non ci sono oggetti rarissimi o oggetti particolari però un Elisir e una panacea sicuramente schifo non fanno ok a questo punto andiamo da questo lato qui c'è il negozio di armi nel frattempo che adesso possiamo appunto in realtà un'armeria ma ho cominciato a vendere anche gli oggetti da un'occhiata quindi abbiamo la possibilità di poter comprare diciamo oggetti nuovi quindi in questo caso abbiamo la magiracchetta il ramo kateciu che non ce ne avevamo queste che non ce le abbiamo queste non ce le abbiamo e poi basta e poi abbiamo praticamente finito quindi abbiamo nuovi equipaggiamenti poi a lei invece chiediamo la pozione perché lei ha la pozione se cerchi la pozione avvenente ce l'ho io aspetta esatto noi tecnicamente potremmo chiedere a chiunque nella città se ha la pozione fino a quando poi incontriamo ovviamente gli NPC che ci dicono di sì ce l'ho io quindi prendila però io già so chi ha la pozione quindi è inutile perdere tempo eppure era qui trovata tienila tanto non la vendo scusa se è tutta impolverata ok pozione avvenente perfetto allora andiamo a vedere se possiamo fabbricare qualcosa di bello dal fabbro lucido le armi per un mio cliente allora queste no già ce le abbiamo già ce le abbiamo già ce le abbiamo e invece qui abbiamo una nuova arma Angel Bless poi t-shirt che noi vabbè qua già ce l'abbiamo quindi non mi interessa farne di più giacca fatata va bene tanto Garnet per ora non utilizzeremo più niente qui abbiamo praticamente tutto tranne la cavigliera che adesso ce l'abbiamo zoccoli che adesso ce le abbiamo cintura nera perle rosse eccetera eccetera tanto gli zoccoli scarpe leggere come piume assorbono l'elemento terra che tra l'altro gli zoccoli se non sbaglio noi ce le abbiamo però ce le equipaggiate quina ecco perché non me li fa vedere perché ce le equipaggiate quina mi sa perché è sempre haste che stava apprendendo zoccoli insegnano sempre haste quindi guardate quanto tempo dopo avremmo potuto apprendere sempre haste se non avessimo sconfitto dantarian al cd2 il fular si fa con la barda magica però noi già ne abbiamo in uso uno quindi va bene vuol dire che ce l'abbiamo il fular ok niente possiamo andare allora tu cambia equipaggiamento e finalmente angel bless poi qui ok non c'è niente giubbotto e qua va bene e stiamo imparando altre robe via possiamo andare a questo punto possiamo andare a prendere le altre due pozioni che si trovano nell'altro borgo se vi ricordate bene ovviamente il ciambellano altania cosa ci ha detto ci ha detto appunto che erano pozioni che venivano utilizzate dagli artisti quindi se noi andiamo al borgo teatrale nel borgo teatrale chi c'è? c'era il pittore l'amico di Ruel se vi ricordate bene quindi chissà magari la pozione si trova lì qui c'è un'altra piccola scenetta divertente che ragazzo non è forse sì è proprio lui ehi giovanotto sì sei proprio tu non vi avevo riconosciuto siete la coppia di Burmesia ti ringrazio ancora di tutto di niente vedo che tuo marito si è ripreso grazie a te dopo la guerra ci rifugiamo all'Inblum sono venuti anche molti altri nostri compatrioti deve essere stata dura e qui abbiamo un altro evento signorina Freya siete viva vi trovo bene anche voi mi sembrate in forma noi sopravvissuti ci siamo rifugiati qui all'Inblum ma molti di noi hanno perso la vita anche il povero Dan mi dispiace ma fin quando c'è vita c'è speranza e noi non molleremo a proposito cosa farete voi? ho deciso di partire con Jidan voglio dare una bella lezione a Kuja e voi? noi impiegheremo le nostre forze per ricostruire Burmesia perciò riuniremo tutti i rifugiati di Burmesia che sono qui all'Inblum ci potete dare una mano? un giorno tornerò a Burmesia ma fino ad allora forse non potrete contare su di me capisco non preoccupatevi ce la caveremo vedrete scusatemi ragazzi come ti vorrei qui Flytray eh Flytray è è andata così devi vedere una cosa ce l'avevi promesso venite qui eccoci oh sono i nostri piccoli cioè loro nel frattempo che sono fuggiti hanno fatto una cucciolata praticamente non avrei mai immaginato che avresti che avresti visto i miei figli qui chi è questo signore? è l'uomo a cui dobbiamo la vita mmm che vuol dire che gli dobbiamo la vita? vuol dire che è una persona importante mmm e allora è il nostro amichetto? com'è bello beh diciamo che le mie fans ce le ho vorremmo tornare presto a Burmesia riuniti tutti i profughi del nostro popolo torneremo e ricostruiamo il nostro regno eh sì stanno ripopolando Burmesia praticamente ci vorrà tempo ma vorrei che i miei figli lo vedessero nel pieno del suo splendore possiamo andare a giocare? sì ma fate i bravi ci impegneremo a ricostruire il paese per i nostri figli il futuro di Burmesia è nel loro Romani se c'è qualcosa che possiamo fare non farti scrupoli a chiederci aiuto grazie ok quindi adesso entriamo qua qui ci prendiamo un bel lapislazzoli e qui chiediamo se ha la pozione una pozione? che roba è? se ti hanno detto che è qui nello studio del Borgo Teatrale cercala tra l'altro questa è una piccola è una piccola cosa particolare della storia appunto del fatto che abbiamo trovato i lapislazzoli qui all'interno della bottega del pittore perché addirittura si vocifera che nel Medioevo per coloro che appunto dipingevano e dovevano ottenere la tonalità del blu o dell'azzurro che era un colore molto difficile da poter ottenere ovviamente in tempi in tempi antichi si utilizzavano le gemme preziose e il lapislazzoli era una di queste gemme che praticamente essendo di colore blu e poteva essere comunque lavorata meglio rispetto a tanti altri materiali veniva appunto spaccata per produrre la tonalità del colore blu quindi diciamo che è una sorta forse di citazione a questa peculiarità del lapislazzoli che si trovi esattamente qui all'interno della bottega dell'artista però la pozione si trova qua pozione sospetta e quindi abbiamo la seconda pozione ah vedete anche la cultura passa per questo canale ah siete tutti qui ehi come stai? au come te butta? meglio ti senti? si si sto bene hai visto blank? si nel castello che sei venuto a fa? non mi pare che sei qui per una visita di piacere infatti ho un favore da chiederti hai la pozione insolita? ce l'ho che si me la daresti? motapio motapio jidan non torni più con noi tantarus? non lo so ci penserò dopo ma senza di te una noia è ti è pozione insolita con questa ho finito devo tornare da sid se vuoi sapere che ce devi fa? serve per far tornare sid un uomo? eh? grazie aspetta quanta fretta jidan torniamo un attimo indietro perché come vi ho detto poco fa se vi ricordate vedete abbiamo praticamente lo scenalante che ci ha spedito molid dopo avergli consegnato i caffè se vi ricordate lui ci aveva detto appunto che ce l'avrebbe spedito esatto ce l'ha spedito qui ovvero nel covo dei tantarus quindi diciamo che è una sorta di collezionabile no? che è presente nella tana dei tantarus qua ovviamente ci prendiamo i soldi perché siamo delle persone per bene e ce ne possiamo andare tra l'altro qui in questa fase del gioco ci sarebbe anche un altro filmato segreto che si potrebbe sbloccare però diciamo che questo filmato segreto si ottiene diventando poveri cioè io tecnicamente devo devo finire praticamente tutti i miei soldi e devo e devo letteralmente essere povero perché nel momento in cui io sarò povero ci sarà una scenetta con Quina che si fermerà a mangiare i sottaceti di erba chisal e noi se per l'appunto non avremo i soldi a sufficienza non potremo pagare il conto e si aprirà un piccolo siparietto divertente ora io cosa faccio? ovviamente non ve lo faccio vedere adesso questo filmato cioè diciamo questa cosa questa cosa particolare non ve la faccio vedere adesso per questioni di praticità perché dovrei mettermi a spendere 4 milioni di kill e dovrei comprare roba all'infinito e non so neanche se ci riesco in tempo quindi faccio un salvataggio qua e ve lo farò vedere praticamente collegato poi farò un montaggio video a parte ricaricherò la partita ricaricherò la partita e farò appunto la perdita di tutti i miei soldi che sono addirittura 4 milioni e mezzo di kill che devo spendere per diventare povero per farvi vedere appunto cosa succede qualora non si ottengano o qualora non si abbiano i soldi per pagare il conto quindi noi vedremo in questo caso della live cosa succede se noi abbiamo i soldi quindi diciamo la fase diciamo originale quindi diciamo il filmato originale però c'è un filmato secondario che se siete addirittura sotto i 100 o 50 kill non mi ricordo i 50 o i 100 kill praticamente sbloccate questo filmato segreto che ovviamente vi spiegherò a voce ma che poi vi farò vedere in un montaggio extra a parte ok abbiamo preso le pozioni quindi possiamo tornare finalmente dal nostro seed abbiamo consegnato la lettera abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare quindi possiamo andare oggi voglio fermarmi cioè voglio fermare la puntata in una zona precisa ovvero quando c'è tra poco in realtà perché ormai non manca molto dove voglio staccare ci sono un paio di cose che voglio fare per farvele vedere perché è giusto che ve le faccia vedere però poi per il resto posso staccare perché sarà tutto farming e ciocobeccare e tutte le altre robe che ovviamente faccio off camera e che non faccio in live andiamo da seed dovrebbe essere qua seed forse no è sopra ok il granduca ti aspetta sì eccoci qua eccomi ho messo in questa ampolla le dosi delle tre pozioni come detto tu dottore bene proviamo subito siete pronto granduca aspettate devo esprimere il mio ultimo buri desiderio mica t'ammazza si comincia oh come vi sembro sono un uomo ora eh eh sono più brutto di prima che ero che ero ho l'impressione che non abbia funzionato ma che avete combinato stavolta è un rospo mi sa che neanche così ci fa l'idrovolante eh no adesso è una chiaro questione di principio devo trovare Hilda anche così combinato venite siete tutti convocati nella sala del consiglio che ero uff sempre peggio ci siamo tutti passo la parola a Granducasid eh stavolta l'hanno trasformato in un rospo il dottore si è sbagliato che ero tornando a Kuja lui ha in mano le chiaro chiavi per aprire qualsiasi porta dobbiamo trovare quel farabutto che ero ma non abbiamo un idrovolante useremo quello con cui siete venuti da Alexandria Oltania chiama Zebalt e fargli mettere a punto la nave Signor si ma dove vuoi andare a cercarlo pensavo proprio a quello che ero i maghi neri che parlano erano sull'idrovolante con Kuja vero? esatto se andiamo al villaggio dei maghi neri forse troveremo un indizio che ero io voglio vederli con i miei occhi forse loro aiutano Kuja proprio vi è incazzato voglio sapere tutta la verità è una buona idea andare al villaggio dei maghi neri troveremo delle tracce sì l'idea del signor vivo è grandiosa a proposito voi che cosa fate principessa? niente sto zitta ha detto che viene anche lei è meglio di no sì sì è con me tutto sotto controllo bene al villaggio dei maghi neri chiero quando siete pronti venite al porto di primo livello chiero perfetto in cerca dell'arte ecco qua questo è il filmato dove voi dovete stare senza soldi perché se voi state senza soldi qua la scenetta si risolve in maniera diversa com'è che fanno tutti sti lavori tutta roba buona sotto c'è di freschi dice che è roba buona fammi un po' vede prego ho dei sottaceti che sono la fine del mondo oh quasi magna per davvero non conosci questi sottaceti diciamo che ne ho sentito parlare e poi se lo volete sapere è il mestiere mio è di assaggiare roba di magna del mondo se è roba che si mangia io mi spolvero tutto brava giovanotta assaggia assaggia sicura posso assaggiare allora io magno ecco e qui praticamente quina incomincia a mangiare cosa succede adesso è che se io vado a prendere quina perché ovviamente io devo andare a recuperare quina quando la vado a recuperare se non possiedo i soldi per pagare il conto ovviamente Gitan che cosa fa davvero furbo davvero furbacchione che praticamente accolla la spesa a Calò quindi gli dice i soldi che avanzano fateli dare da Calò e se ne va nel momento in cui poi praticamente c'è la scena seguente che si sblocca dopo c'è un'altra scena che si sblocca subito dopo dove praticamente Calò viene informato del fatto che Gitan gli ha detto alla vecchietta praticamente dei sottaceti di farsi dare i soldi e quindi Calò si incazza perché dice ma come quello ti ha detto che io ti devo dare i soldi e ora io devo pagare per colpa sua e quindi è un piccolo siparietto che si sblocca in questo modo però si sblocca solo se non avete soldi cioè dovete avere meno di 100 o di 50 kill non mi ricordo di preciso invece adesso che io ho i soldi appena vado a prendere quina pago il conto e rivederci a tutti ecco qua ehi quina che fine hai fatto ciao Gitan sei arrivato al momento giusto dammi una mano con sta vecchia non la sopporto più ah tu non sopporti me è amica tua la cicciona beh amica ecco diciamo una conoscente beh la tua conoscente stava scappando senza pagare senza pagare scusa prima mi dici te magna e poi mi dici te pagà questa è mezza scema ma da che mondo vieni io sono qui per lavorare sai la vendo la roba non la regalo va bene ho capito dimmi quant'è sono 100 kill ecco 100 kill quindi bisogna avere meno di 100 kill praticamente eh ma quanto hai mangiato a malincuore ho pagato 100 kill sbrigati a portarti via questa disgraziata dai quina andiamo grazie ciccio starò sempre con te non ti prendere pene grazie a tutti ok e in questo caso come potete vedere quina abbiamo pagato il conto ops mi si è staccato il joypad ti prego non ti sfasciare riattaccati ok e praticamente in questo caso abbiamo pagato il conto quindi finisce qua la storia ma se noi ci presentiamo qui e andiamo a prendere quina con meno di 100 kill succede quello che vi ho raccontato che però vi farò vedere comunque in montaggio quindi non vi preoccupate farò praticamente un montaggio video dove farò vedere anche questo finale cioè dove farò vedere anche questo anche questo evento quindi ritorniamo al castello adesso che abbiamo preso quina ritorniamo al castello e possiamo finalmente andare alla porta di primo livello ok quindi scendiamo e andiamo al primo livello ovviamente in questo caso dobbiamo andare alla porta del drago marino e non alla porta del drago terrestre proprio per questo motivo ecco qua bellezza ogni volta che il granduca vi aspetta in nave prego salite dalla scaletta anteriore quando Sid mi ha chiamato all'improvviso per terminare i lavori mi ha preso un colpo mi ero già preso le ferie dopo che erano spariti tutti i nitrovolanti e invece eccomi qui esatto ragazzi finalmente ci siamo ecco il secondo filmato con calò sarebbe partito qui nel momento in cui io salivo sulla barca mi ha chiamato 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 il nostro carico d'un uplifted di ripas mi ha chiamato il nostro carico mi ha chiamato ma chiamato Sarebbe partito il filmato quello con Calò dove appunto gli chiedevano i soldi eccetera eccetera Cavolo adesso si che è ben equipaggiato ho fatto la muffa a star qui ad aspettare eh? Ehi Blank come mai da queste parti? Beh mi hanno chiesto di venire Chi? Calò? Cosa trama ora? Sì me l'ha ordinato il boss ma chi l'ha chiesto a lui è sono stato io Chero Quina guardate subito come si è girata volevo che qualcuno vegliasse la nave mentre noi eravamo a terra Chero una rana e poi ti dovevo un favore un favore? Accidenti non mi sembri più tu sa parlà ora partiamo Chero Sì ma prendila con calma in fin dei conti sei ancora una rana se potrà mangiare non chero preoccuparti ah a proposito quando vuoi cambiare i quattro membri della squadra chiedi a me Chero bene partiamo Gitan sai dove dobbiamo andare? Sì ci dirigiamo al villaggio dei machineri nel continente esterno se perdi il senso dell'orientamento premi select e controlla la direzione e qui possiamo finalmente scegliere il party finalmente abbiamo la libertà totale su chi mettere in squadra e chi no questa è una delle cose che qualsiasi giocatore di Final Fantasy aspetta dall'inizio del gioco ovvero avere il party completo e poter decidere cosa e come fare le cose io ogni volta che ho la possibilità di sbloccare il mondo aperto e il party mi sento bene mi sento felice e dico adesso finalmente posso giocare a Final Fantasy perché tutto quello che fai prima è soltanto trama 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 magari c'è qualche chicca qualche completismo qualche cosuccia però è tutta trama 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 ora finalmente si iniziano a sbloccare tutte le cose farmabili tutte le cose secondarie piano piano avremo sempre più libertà di movimento e si avrà sempre più possibilità di diventare forti e di diventare rotti perché l'esplorazione il farming le ciocografie le ciocobeccate ti permetteranno di essere sempre più forte allora Queen intanto la mettiamo qua poi mettiamo Vivi qua e Steiner qua perché il mio party per ora sarà questo sia perché Steiner deve livellare e deve apprendere tutte le tecniche e anche perché Quina avendo Quina ovviamente all'interno del party non mi servono le cure di Garnet che tra l'altro è completamente inutile in questa fase del gioco e di Eiko che comunque è forte e forse anche più forte rispetto a tutti gli altri personaggi però in questo caso mi conviene portare Quina perché appunto con Quina devo apprendere delle tecniche che adesso vi farò vedere vi farò vedere dove apprendere alcune tecniche importantissime e poi gli altri personaggi invece avrò modo di livellarli tutti insieme in una volta sola quindi per il momento il mio party sarà questo e ragazzi finalmente abbiamo il Narciso Blu quindi finalmente potremo attraccare in tutte le spiagge e tutti i porti presenti all'interno del gioco sospiro di sollievo e via sì sì il mondo è nostro allora ci sono un paio di cose che dobbiamo fare adesso innanzitutto qui c'è un qualcosa che dovremo esplorare tra poco sì ci andremo qui ci andremo anche perché ormai la trama per ora abbiamo praticamente finito adesso faremo tutte delle cose secondarie che ci servono per diventare più forti quindi come prima cosa in realtà come prima cosa io vorrei fare allora vorrei andare da questo lato perché come vi ho detto ci sono delle tecniche da apprendere esatto ci sono delle tecniche da apprendere e le tecniche da apprendere si trovano esattamente qui alla terza palude dei Q la prima si apprende qua dobbiamo andare qui nella spiaggia dobbiamo dobbiamo combattere sulla spiaggia per trovare un nemico in particolare ovvero no non tu non sei tu quella che cerco che tra l'altro hanno un sacco di vita nuova zona quindi sono nuovi mostri forti nero di seppia bello non pensavo fossi ancora vivo lei non dovrebbe apprendere nulla in realtà perché non mi ricordo nessuna tecnica da questo però vediamo vediamo se succede qualcosa esatto anche perché la tecnica che devo apprendere è un'altra si trova sempre qui sulla spiaggia ma è un altro mostro non è non è questo allora secondo io voglio controllare l'equipaggiamento intanto perché ecco Steiner è che però l'anello protect ce l'ha forse coso l'anello protect mi sa che ce l'ha ah no ma gli zoccoli danno sempre levita non sono quelli sono sono le pantofole che danno haste eh ok eh le ho confuse eh si mi sa che l'anello protect io l'ho dato a coso ad amarant quindi aspetto un secondo si cambia un attimo i membri della squadra amarant esatto l'anello reflex l'anello protect l'ho chiamato sì ciao buonanotte già sto dormendo allora dov'è anello reflex eccolo qua eh qui non abbiamo nient'altro qui stiamo apprendendo le cose abilità attiva eh leviamo tutto perché tanto questi non mi servono isotermia vigilanza siero distinebra eh vigilanza lo levo preferisco metterti sempre reflex così convivi possiamo fare le magie con il reflex per renderle più potenti che è una tecnica assolutamente valida ok e adesso possiamo scendere di nuovo ok andiamo in spiaggia e cerchiamo il nostro amico dove sei oh eccoti qua allora magia blu mantra magia questo è il nemico che stiamo cercando ovvero la zombie whale ovvero la la balena zombie mancato benissimo no vabbè non credo che forse funziona perché la balena zombie è già morta quindi non credo eh infatti non funziona va bene andiamo avanti vediamo se la colpisce no mancato fa un culo dai vabbè vediamo se adesso così va bene devo indebolirlo per mangiarlo no mi è ammazzato qui no come osi finchia uno madonna potrei fare un maledettissimo limit globe eh però così ho paura di shottarla no minimum credo che la shotto così mannaggia eh vivi è diventato zombie no aspetta cos'era talismano forse eh sì allora magia blu madonna mia poi non la colpisce mai voglio voglio utilizzare ma tra magia apposta che così ci sbrichiamo e invece mi fa perdere mi fa perdere tempo niente impossibile allora qui intanto faccio per ora un secondo facciamo un vento bianco giusto per curarsi che palle polvere di zombie che è incredibile non riesco a colpire ma ci danno la protezione per il siero oddio io ho tolto tutte tutte cose gitan niente non la becca incredibile vabbè con steiner penso ora gli faccio il danno sufficiente ah vero è zombie lol l'ho ucciso giustamente l'effetto zombie le cure oh ha preso livello ad5 perfetto perché è importante la tecnica livello ad5 perché adesso grazie a questa tecnica ah tra l'altro abbiamo appreso sempre haste perché grazie a questa tecnica adesso sarà molto più facile farmare e non lo posso risuscitare perché giustamente sarà molto più facile adesso farmare i red i grand dragon perché se vi ricordate bene i grand dragon sono di livello 60 quindi sono multiplo di 5 e quindi di conseguenza adesso li possiamo shottare quindi sapete cosa vuol dire che adesso possiamo shottare i grand dragon ovvero il farming adesso diventa una passeggiata ecco perché non ho livellato finora prossima creatura che si trova qua anzi due creature se non sbaglio si trovano qua eccola qui c'è la prima sbatti terra che è esattamente la tecnica che impariamo dalla damantart qui che va in trance ovviamente mancato molto forte molto forte in difesa la damantart allora io direi che un altro colpo con gitan lo faccio e poi faccio cucina perché tanto con la cucina ho il 50% per poterlo per poterlo prendere quindi dovrebbe funzionare esatto ha preso sbatti terra altra tecnica op per la nostra quina che non è male non è male fa anche dei bei danni però utilizzeremo utilizzeremo sicuramente dell'altro per quina allora un'altra tenda perché non avevo gli hp al massimo quindi ok adesso dovrei averli al massimo in teoria vediamo quasi l'altra creatura si trovava forse dentro la palude che tra l'altro insegnerà una tecnica op a livelli incredibili tra l'altro aspetto io volevo vedere cioè io praticamente siero minchia siero non ce l'ho mi sono tolto siero rischioso togliere siero però vabbè ok allora ok girovagliamo qua perché se non sbaglio l'altro mostro che mi serviva era qui dentro che era quella specie di di lumaca tutta strana eccola eh però sono due mi sembra un po' esagerato ok gli ha messo berserk male ah l'anemone ok se non l'ammazza steiner minchia tutti in berserker sono andati bello godo no no su qui no no minchia devo mettere l'anti ma va cagare niente devo scappare per ora perché se mi mettono berserker è finita diciamo che la fregatura qui è il fatto che non essendo non essendo magie ma essendo tecniche mi colpiscono se fossero state magie le avrei sicuramente riportate indietro le avrei rispedite al mittente ma essendo tecniche purtroppo non funziona così ok qui abbiamo il corsaletto poi tu qua va bene va bene sempre levita va bene sì qui invece ok tu sempre haste l'hai appresa perfetto quindi level up anche qua level up quindi in realtà questa adesso la possiamo togliere ti faccio apprendere qualcos'altro di l'app per ora non mi interessa però va bene dai apprendila ok ricerchiamo di nuovo le anemone però purtroppo me ne sono capitate due e quando sono due sono un po' infami no questa è la rana e già l'abbiamo affrontata quindi non ci interessa tra l'altro da me c'è un vento allucinante che no andiamo via dai minchia non mi spuntano più mi sono spuntate subito e ora non mi spuntano più poi mantra magia che non mi funziona è pazzesco ce l'ho fatta quante volte l'ho fatta mantra magia qualche qualche cinque sei volte non mi è entrata una volta non mi è entrata una volta ecco qua sempre due tra l'altro alito ferito perfetto presa ok l'altro la possiamo ammazzare avete capito bene abbiamo appreso alito ferito siamo diventati dei molboro praticamente abbiamo appreso abilità quindi adesso qua possiamo cambiare vediamo se c'è qualcos'altro no ok e visto che adesso siamo dentro la palude dei q ovviamente cosa si fa dentro la palude dei q se magnano le rane ok diamoci da fare quale possiamo prendere tutte perché tanto ci ritornerò tra un bel po' alla palude quindi possiamo tranquillamente tra l'altro questa è una delle palude più facili dove raccogliere le rane perché basta girare tondo e le si raccolgono subito qui nate stai da da fa stai imparare stai imparare bene l'arte piglia questo bistro forchetta grazie signora ma è sarà orgogliosa di me ci puoi giurare quindi abbiamo catturato ben 33 rane come gli anni di cristo dai dai su su fatti mangiare fatti mangiare potrei anche lasciarle effettivamente una rana però non ha senso lasciarne una dai che se salta appare il punto esclamativo lo stesso ecco no era apparso ok abbiamo finito qui non è finito basta così ok abbiamo preso la bistro forchetta madonna 68 di attacco fisico una bestia letteralmente una bestia ok qui non credo che ci siano altri altri nemici da cui apprendere tecniche mi sa quindi quindi possiamo andare via prossima destinazione ovviamente non qui la mia prossima destinazione è un luogo che abbiamo già visto in realtà è un luogo che già conosciamo perché c'è una tecnica che devo andare a prendere c'è una tecnica che ci siamo lasciati alle spalle e che vi ho detto saremmo andati a prendere dopo ovvero l'albero di IFA dobbiamo tornare all'albero di IFA quindi acceleriamo così siamo un po' più veloci che se no ci stiamo vent'anni allora qui intanto ah vero a proposito dobbiamo fare anche un'altra cosa è un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare eh meno male che sono passato di qua e me ne sono ricordato a parte che lei era tutta distrutta però vabbè dobbiamo consegnare i semi di cupo quindi facciamo una piccola deviazione e ci prendiamo un bel fermaio quindi un nuovo accessorio eh ricordatevi sempre di consegnare i semi di cupo io me lo stavo dimenticando ma l'avrei sicuramente fatto l'avrei sicuramente fatto dopo qui continui dalla live dove prendesti Eiko siamo andati un po' più avanti siamo andati leggermente avanti già eh di poco ma siamo andati leggermente avanti perché abbiamo fatto anche la parte di Toleno quindi siamo un po' più avanti allora qui c'è l'albero di IFA ora non mi ricordo dove attraccare forse eh da qua potevamo attraccare esatto quindi sendiero di Conte Petit nemici che possiamo bypassare perché tanto sono scarsissimi sì se magari ecco grazie ci avete fatto un favore altri nemici non capisco perché ogni volta non scappano madonna che fastidio che mi danno cioè sono letteralmente più forte più veloce e non scappano ok andiamo all'albero di IFA il tempo il tempo che faccio l'abilità fuga a parte che perdo i soldi mi rompo questa è una cosa di principio io sono più veloce sono più forte e dovrei letteralmente scappare subito invece no allora i mostri che mi servono dovrebbero trovarsi qua vediamo se è così no non sei tu quello che mi serve ok shottato easy no in teoria faccio prima con la fuga normale se viene triggerata ma poi tutti attacchi alle spalle ma può essere dai uscite fuori niente non escono forse quasi rami vediamo proviamo sui rami oh eccoli qua allora facciamo fuori i primi due ok uno ora con vivi vediamo se questo lo faccio fuori divora ok perché loro non hanno tanti hp quindi vediamo se lo posso mangiare subito no vediamo un altro attacco di vivi senza critico per favore no si è suicidato madonna quanto li odio quanto li odio quanto fanno così comunque sono gli zombie che dobbiamo prendere se si fanno se si fanno mangiare ovviamente se si fanno mangiare che preferirei livellare che preferirei livellare poi dopo cioè non ho bisogno di livellare adesso ecco mettiamola così qua mi servono solo le tecniche allora qua attacco allora uno lo facciamo fuori vediamo se mi entra mantra magia magari sarebbe sarebbe anche l'ora che allucinante proprio non mi entra mantra magia cioè a dire una volta che entra niente è impossibile oh qui è entrato ok ora ti prego non fare fusione stai fermo ok tu lo puoi fare non mi interessa vai qui no magnatelo perfetto roulette russa ole ci siamo abbiamo finito grazie Gesù ok abbiamo appreso tutte le tecniche che per il momento mi servono con qui tanto ormai Ale tanto ormai abbiamo finito c'è l'ultima cosa che dobbiamo fare stasera giusto per salutarci in bellezza c'è solo l'ultima cosa che dobbiamo fare dopodiché abbiamo finito perché poi ovviamente tutto quello che verrà dopo lo farò io per conto mio perché mi metto a farmare mi metto a fare mi metto a fare tutte le robe secondarie senza appesantire le live ovviamente perché non ne vale la pena ok perfetto a questo punto l'ultima cosa che dobbiamo fare e andare al ciocobosco oh ne riparleremo ne riparleremo ne riparleremo ne riparleremo di tutto ciò allora erba ghisal dove sarà mene mene o mene era uscito un secondo chi è questo ciocobo dov'è il mio ciocobo occupò non so che gli è preso però è lui è proprio ciocobo ma 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 allora ma allora è vera la leggenda sto cercando il paradiso terrestre ma la leggenda dice che solo che solo un ciocobo prescelto e il suo fantino possono andare in questo paradiso devi allevare ciocobo farlo diventare potentissimo e poi devi farti portare in paradiso dov'eri sono contento che me lo chiedi mi hai trovato finalmente attraversando il mare verso sud ovest c'è l'artipelago salpege lì c'è un'isola chiamata bamunele che ha un piccolo golfo in cui puoi entrare da una secca controlla bene sulla mappa cupo ho sentito dire che il golfo è illuminato da una luce di afana proprio come questo bosco sono certo che c'è una ciocografia vedete quindi praticamente abbiamo l'indizio del fatto che adesso abbiamo sbloccato una nuova zona e inoltre se notate non mi appare più il messaggio ciò ho affinito le ciocografie perché perché adesso ce ne sono di nuove quindi bisognerà trovare le nuove ciocografie ma queste saranno cose che faremo la prossima volta visto che ormai è quasi tardi probabilmente la faremo per la prossima volta anzi facciamo facciamo l'ultima cosa in realtà potevo anche fermarmi qua facciamo l'ultima cosa giusto per giusto per chiudere in bellezza andiamo al ciocogolfo tra l'altro dovremmo anche tornare ad alexandria perché si può anche tornare ad alexandria perché se vi ricordate bene alexandria ha il porto quindi si può tornare a guardare la situazione su alexandria per come per come è stata ridotta ovviamente alexandria quindi e ci torneremo ci torneremo la prossima volta vedete questo è il ciocogolfo però non ci possiamo andare direttamente purtroppo dobbiamo fare un giro un piccolo giretto visto che ancora il nostro ciocobo non è in grado di diciamo di camminare sull'acqua profonda no possiamo solo camminare sulle secche quindi dobbiamo fare un piccolo giretto che non era questo devo fare il giro dall'altro lato ogni volta me lo scordo che devo fare il giro lungo è fatto apposta esatto dobbiamo fare praticamente tutto il giro lungo e arrivare qua eccolo qua ciocogolf bene che ci fai qui ciocco amico mio perciò lo aiuterò cupo cercheremo insieme il paradiso comincia intanto a ciocobeccare un po' qui ciocco vediamo cosa trovi attento però perché il fondo del mare è più duro di quello del bosco cupo ma ciocco sa scavare solo in superficie allora ti propongo un affare metà tempo metà prezzo e quindi noi potremmo beccare soltanto in questa prima parte vedete se noi andiamo lì in fondo il ciocobo ci ferma e fa cuque perché giustamente non può ancora andare nell'acqua profonda però diciamo che questa piccola zona per poter ciocobeccare è molto buona perché la zona è piccola e quindi si può ciocobeccare più in fretta chiedere una cosa a cioco ecco vedete qui possiamo praticamente anche visualizzare le ciocografie però facciamola una ciocobaccata così giusto per battezzare giusto per battezzare il tutto mettiamo la velocità così siamo più veloci antidoto vedete il fondale è più ago dorato vedete i tesori è molto più semplice da trovare perché giustamente la zona è più piccola pozione 50 kill sei un fenomeno però se li trovi tutti tu la mia attività va a rotoli io ho una famiglia da mantenere ti do un bonus speciale per oggi basta esatto perché qui non funziona come le ciocobaccate normali che si trovano otto tesori ma solo quattro perché la zona è dimezzata quindi qua si possono farmare punti in maniera allucinante soprattutto con la velocità messa della versione pc qua farmare punti è una goduria vedete ogni volta che ne troviamo 4 otteniamo il bonus dei punti il becco si indurisce quindi diventiamo sempre più forti e questa cosa ci aiuterà anche per il ciocobosco perché nel ciocobosco ovviamente faremo più danno quando ciocobeccheremo a terra però per il momento usciamo queste saranno le ciocografie che riuscirò a beccare per conto mio visto che comunque già è tardi poi da me c'è brutto tempo quindi non vorrei rimanere troppo tempo al pc per evitare magari guasti dovuti dal brutto tempo direi che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in questa parte di gameplay la prossima volta magari ci facciamo anche qualche ciocobaccata insieme e continuiamo la storia così nel frattempo abbiamo modo anche di poter parlare poter chiacchierare un po' quindi salviamo così ho anche la possibilità di registrare poi quel ferrammento di video per farvi vedere il dialogo speciale per farvi vedere il dialogo extra salviamo qua ecco qua isole bamunele ok e detto questo signori ci becchiamo alla prossima domani non so cosa faccio forse volevo fare triangle strategy e poi giorno 10 maratona di Hogwarts Legacy quindi ci siamo detto ciò vi do la buonanotte è ciao